Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Aghezzo TV, siamo venuti a prendere il treno con il nostro Beppe Marconi in questa bellissima stazione di Olmo Sarà dura che tu prendi il treno qui Passa però, la linea che va a Foligno o anche quella a Roma, sia a Roma che a Foligno Passa sì, guarda però, tutti i binari sono stati dismessi, ci sono stati binari di transito, non c'è attraversamento, non c'è niente E' un binari dismessi, qui sono dismesso tutto, veramente, completamente tutto abbandonato Belle scritte anche qui, ma la vive Tra l'altro, anni fa, ricordi che qualcuno aveva riaperto il dibattito di riaprire le piccole stazioni di Rigutino e Olmo Anche per togliere traffico alla regionale 71, perché comunque le stazioni ci sono, il treno ci passa Però non si sono mai convinti a livello di Trenitalia, eccetera, di riaprire queste stazioni Ho visto anche la regione toscana per quanto riguarda i trasporti pubblici Intervenuta per tagliare anche i trasporti pubblici Invitando i comuni a valutare quali sono le linee che sono completamente in deficit, che non vengono utilizzate E tagliarle, in modo tale che la prossima non avremo meno di costi Se no, altrimenti i comuni se le vogliono avere, pagano Quindi penso che tanto il mezzo cubico non lo usa quasi più nessuno O meno, pochissimo, per le medie e grandi distanze Per le piccole distanze ormai c'è l'auto che impera E' un peccato, perché poteva diventare una metropolitana di superficie, se vogliamo Visto che ne passa diversi, quindi i treni, in queste due linee Il problema è che poi, tra l'altro, la stazione ferrovia è affascinante di per sé Perché se tu te la facci, per chi vuole vedere No, io ne ho passato delle domeniche intere Sì, se la domeniche intere, perché io sono stato sempre un appassionato di treni Addirittura c'è una collezione in casa che penso sia unica Di modellismo? Sì E io passavo le domeniche e lì, guarda, in quel posto di dove ci stava il capo stazione Quando passava il treno, e ho imparato tutto il funzionamento allora Perché allora i treni viaggiavano a vista E quindi non c'erano adesso tutti i sistemi elettronici Il capo stazione dava il consenso all'altra stazione di inviare il treno E a sua volta poi lui la dava alla stazione successiva Doveva uscire qui esternamente, presenziare il passaggio del treno Controllare che passasse l'ultimo vagone Perché? Perché? Perché se si era staccato un vagone e era rimasto in legna potrebbe succedere qualcosa Quindi controllava che ci fosse il segnale ampeggiante nell'ultimo vagone Dopodiché ridava l'ok alla stazione successiva per inoltrare un altro treno Quindi era una cosa veramente macchinosa E veramente doveva essere prestato la massima attenzione Perché bastava un attimo di disattenzione potrebbe creare un disalto ferroviario Però in effetti devo dire che è successo rarissimamente Sono successe rarissimamente delle problematiche Perché in effetti poi il personale è anche all'altezza, super esperto Va bene, ora non è una trasvisione sul modellismo Andiamo a vedere sotto il... Il modellismo, ma la realtà... Hai ragione Andiamo a vedere sotto... Perché quando si diceva è bella, affascinante la stazione Il problema è che quando poi la si abbandona Soprattutto non la si chiude perché è tutto aperto Come siamo entrati noi, può entrare chiunque Diciamo che si salva il posto perché è leggermente in periferia Perché se fosse, se fa conto, nel centro di Arezzo Questi bagni aperti, chissà dentro, già così Vedi che sporco, tutto lasciato aperto così Se fosse in città diventava un luogo ovviamente frequentato Da persone come sempre poco raccomandabili Soprattutto qui, secondo te, di notte non c'è nessuno È tutto aperto Perché il cancello è completamente aperto Ci possono venire tutti qui Le chiusure sono tutte fatiscenti, vedi, con vecchie Sono proprio accrocchi Qui c'è questa cosa nuova Non so Non lo so Vedo che sembra una centrale telefonica Mi sa che è un'antenna della telefonia mobile È una telefonia mobile Ecco un altro treno, senti come passano Vedi che passano Quindi fermarsi un attimo Qua è il garage Cosa abbiamo nel garage? Coperte Come sei? Coperte Eccolo un altro Questo è un treno merci Un treno Di poco Un trenato Un locomotore Non so Un tigre Dove lo sapere? Eh, lo scelto Un treno merci Pochissimi Un treno merci Questa è nella realtà Si vedono quasi più No No, no, no Il treno Italia investe tutte le sue risorse su frecciarossa, frecciargento Non ne importa soltamente niente Dei traffico locali Del transporto merci Oh, un po' di macchine d'epoca Eccola qua Eh, che targata Targata, sì Non facciamo vedere la targa Però Qui, guarda Che situazione Tutto abbandonato Vediamo dentro cosa c'è Vetri Qui, evidentemente qualcuno che non ha voluto pagare la demolizione Eh, sicuramente sì Oppure, sai Non lo sappiamo, ovviamente Ma potrebbe essere anche Auto Usati anche per Commettere reati Sai che volte le abbandono No, ora no Ma probabilmente quando l'hanno abbandonata Ah, po' da zio Passi, quindi Prima ci stavano Ci stavano Ci stavano Capo stazioni Capo stazioni in tutti i due piani No, in un piano E servizio Non è che ci abitavano C'è un'accento privato No, no Poi c'è un'accento Stazione Io vedo anche piccole stazioni Che c'è proprio le case C'è un'accento Generalmente sono anche dormitori per coloro che lavorano in linea Ma però con le stazioni qui non possono abitarci privati perché è pericoloso in quanto abbiamo il treno a due passi quindi sarebbe un rischio Tu ho visto anche tutti i vecchi caselli della ferrovia Rezzostia li stanno abbattendo piuttosto che venderli perché appunto lungo la ferrovia non possono essere Sì, c'è da vedere qua dentro il nostro Fabio è sempre pronto a aprire i varchi Cosa c'è qua? C'è delle vecchie registri, tappeti, un piccolo deposito Chissà quanta storia in quei documenti Eh sicuramente sì C'è anche una tannica di una Jeep Willys guarda La seconda guerra mondiale Ma senti Eccola là Tu riconosci il modello di una tannica della seconda guerra mondiale Lei sta male Ci sarà anche l'anno di costruzione Addirittura Mi fido sulla parola Va bene Non so qui Qui nella stazione qui è di chi è? Vecchie FS Sì ma adesso è una società Cento stazioni Bravo Cento stazioni Non so se le gestisce tutte Penso di sì Logicamente Quindi se succedesse qualcosa qui dentro Di chi è la responsabilità? Cento stazioni Cento stazioni Cioè è affascinante da una parte perché è abbandonata ma anche una tristezza perché secondo me per come era stata realizzata potrebbe ancora oggi fornire un servizio Non dico tutti i treni o qualche treno si potrebbe fermare e anche a Chigutino uguale No tu non sei favorevole Assolutamente Perché? Perché ha un costo Ha un costo? Un treno Ha un costo di te Sì Il personale che ci vuole Che personale? Il controllore che scende C'è delle stazioni che non c'è nessuno Non ci manco la biglietteria Non te ne intendi Ancora oggi in tutte le stazioni ci vuole qualcuno? Ci vuole essere presenziata Poi ci vuole i segnali di arresto Ci vuole i segnali di partenza Ci vuole un centro elettronico che gestisca il tutto Non è mica una bescheratina così Però quando l'hanno chiusa c'era prima Era un altro servizio Era un altro servizio Va bene Era manuale Oggi invece Oggi è tutto elettronico Tu sai i frecciarossi da dove vengono gestiti? Da Roma Tutto la tratta Quindi tutto l'estratamento del traffico ferroviario Parte da Roma Roma ci dice tutto Quindi Treni contro la stazione di Roma Dai, non è possibile Ci vediamo domani Ciao